buongiorno e ben trovati alla cronaca dal fronte liberista buongiorno buongiorno buonasera benvenuti ben trovati tutto quello che vuoi ben trovati trovati fino a un certo punto perché oggi tutti s'aspettano ovviamente di trovare il terzetto ma nel terzetto tutti cercano serena e invece si beccano quindi brutta 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 sorpresa chiaramente per gli ascoltatori del nostro podcast però cercheremo di farci perdonare a questo punto parlando con una puntata monotematica abbiamo detto dico tanto vale che non ci spostiamo su robe che potrebbero richiedere un minimo di cultura generale o un minimo di cultura in generale restiamo su un argomento soltanto così diciamo non possiamo sbagliare però è un argomento che abbiamo seguito in fondo fin da fin dall'inizio cioè fin da quando javier milei ha vinto arrivato al ballottaggio per le elezioni presidenziali in argentina che poi ha vinto e ha cominciato a mettere in atto il suo piano di risanamento che sulla carta trovavamo convincente ma contemporaneamente dicevamo boh chissà se questo poi ci riesce a realizzare effettivamente non dico tutte ma almeno una parte delle cose che che ha promesso tra l'altro avendo vinto le elezioni presidenziali con una grande affermazione personale ma avendo in parlamento una una coalizione di minoranza ecco e invece a quasi un anno di anzi a un anno di distanza si può cominciare a dire che per carità è presto per esprimere giudizi definitivi eccetera però si sono messi in fila una serie di di fatti di eventi coerenti sì anzi sembrerebbe proprio di stare diciamo volendo fare una citazione colta giusto per ricordare appunto la professoressa sirioni sembra di stare un po come per ricordare sembra che no no ricordare che c'è per omaggiare no per omaggiare di filippo quando dice ha da passare nottato quando trovano la medicina per la bambina ecco diciamo che le medicine sembra che la cura la professoressa sirioni insegna a napoli quindi tu la associ però stiamo parlando di di un grandissimo vabbè stiamo parlando di un grandissimo vabbè ma non è inutile se ignorante non deve stare a fare ora quale cosa però dicevo il tema è che la medicina è stata data e comunque diciamo continuo in qualche modo a essere data però le dosi da cavallo ci sono state ci ritroviamo in quella fase appunto no carlo nella quale si cerca di capire un po se si svolta o meno ci sono dati positivi certamente eh sull'inflazione che mensilmente è scesa dal 25 per cento del dicembre 2023 al 4 per cento mensile pur avendo ancora un outlook per il 2024 piuttosto diciamo impressionante e c'è il tema diciamo della prima volta che sia un surplus eh di budget di di bilancio e quindi un surplus eh fiscale che è importantissimo non si era mai visto restano chiaramente indicatori complicati eh un po' il GDP che è ancora in contrazione nel 2023 anche se è proiettato nel 2025 24 per per una per una possibile crescita addirittura c'è un tasso di povertà che aumenta c'è un tema di disoccupazione però c'è anche diciamo il country risk index che migliora con le prospettive di investimenti ecco in questo quadro abbiamo voluto individuare con Carlo eh due tre articoli che sono usciti che crediamo diano anche un contesto no? A quello che non sono soltanto temi diciamo economici ma anche temi di gestione di un paese certamente complicato e che però resta per noi diciamo una grande speranza rispetto diciamo a quello che possono fare i liberisti al governo. Sì perché eh diciamo la terapia di Milei da da un certo punto di vista sulla carta è semplice ha eh diciamo spinto la banca centrale argentina a prendere una come dire a prendere come obiettivo la stabilizzazione dei prezzi per eh fare questo ha ehm tagliato letteralmente dalla sera alla mattina dei cinque punti percentuali la spesa pubblica e questo è il motivo per cui da un lato ha raggiunto il surplus di bilancio ma dall'altro ha acuito nel corso della prima metà del ventiquattro la recessione adesso sembra che le cose comincino a a a sbloccarsi l'occupazione cresce forse crescono i redditi reali soprattutto nel settore informale e per stimolare l'economia cosa ha fatto e arriviamo così al primo degli articoli che che vogliamo citare ha dato mandato al suo ministro Federico Sturzenegger che peraltro è anche eh eh l'ex eh governatore della banca centrale argentina stavo controllando se era il governatore o il vice eh ha dato mandato a questo eh Federico Sturzenegger che chiama economista di formazione di fare tutto quello che può sostanzialmente per eh rendere più dinamica l'economia senza avere un impatto negativo sul bilancio e quindi Sturzenegger tutte le settimane se ne viene fuori ora sto un po' esagerando un po' romanzando ma neanche troppo se ne viene fuori con un pacchetto di riforme di deregolamentazione di liberalizzazione di apertura del mercato e così via contemporaneamente hanno eh ridotto significativamente i dazi e eh cominciato a ridurre i controlli eh sui movimenti dei capitali e questa cosa al momento sembra eh oggettivamente che 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 stia funzionando. Sì c'era addirittura ho letto scusate Carlo una norma per cui chi importava dei prodotti doveva convocare un rappresentante di un'impresa che produceva gli stessi prodotti nel paese per vedere se poteva effettivamente importare o meno tra le cose assurde diciamo di regolazione che c'era. Sì perché il peronismo alla fine ha costruito un meccanismo iper intricato di tutele eh incorporative di 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 regolamentazioni che davano semplicemente del potere discrezionale alla burocrazia alla politica e così via e Sturzenegger si sta divertendo tra virgolette a eh tagliare tutte queste cose e in questa intervista che ha rilasciato al Financial Times ha una battuta molto carina perché dice che il la la come dire più in una una società si trova in una situazione grave più questa società è piena è ingessata da un intrico di leggi e all'inferno ci sono soltanto le leggi. E questo lo possiamo dire perché non c'è la processa di scrivioni se stiamo approfittando. Esatto c'è la profittia bisogna fare un pochettino come quando non c'è il gatto eccetera no? E da questo punto di vista la strategia che sta seguendo Sturzenegger è che certamente incontra la resistenza di tutti coloro il cui privilegio le cui richieste spiegano storicamente l'emergere di una specifica regolamentazione. Però lui tagliando un po' dappertutto e facendo arrabbiare tutti e forte del consenso politico ovviamente che Milei continua ad avere sta portando avanti questo lavoro. Perché è interessante chiedersi in che modo Milei riesce a mantenere a oggi il suo consenso? Secondo me ci sono due risposte principali. La prima sta in quello che dicevi tu prima cioè nel fatto che lui si è dato vari obiettivi molto chiari la riduzione dell'inflazione, l'aumento della crescita economica, la creazione di occupazione ma se gli è dati presentando fin da subito ai cittadini negli elettori la sequenza temporale. Cioè il suo messaggio era per prima cosa dobbiamo ingoiare una pillola che ci farà star male ma che è necessaria ridurre l'inflazione e ridurre l'inflazione è la premessa indispensabile a qualunque strategia di crescita. E oggettivamente gli argentini questo calo dell'inflazione lo stanno vedendo come dicevi tu in termini di inflazione mensile ed è già significativo che misuriamo l'inflazione mensile in Argentina si è passati da valori attorno al 25% quando lui ha preso il potere quindi alla fine dell'anno scorso a valori attorno al 5% mensile nel mese di novembre. Ora a noi questa cosa dovrebbe far tremare le vene nel senso che nel 2022 con un'inflazione se non ricordo male attorno all'11-12% sembrava ci fosse la rivoluzione ed era l'11-12% annuale loro avevano il 25% al mese e però questa battaglia lui la sta vincendo e comincia a vedersi anche un effetto delle varie politiche che ha adottato sulla sulla crescita. Quindi insomma è un modello interessante questo questo dimmi lei sì sì no scusa Carlo finisci no no diciamo un modello interessante è che se davvero se riesce a mantenere almeno il prossimo anno o due la barra dritta e non è facile perché per esempio la spesa pubblica la tagliata dei 5 punti percentuali di pil ma la tagliata tagliando trasferimenti agli enti locali e così via non è detto che possa continuare a tagliare o anche solo mantenerla in termini reali sugli attuali livelli se vincerà la sua scommessa e manterrà il consenso io credo che la vicenda di mille sia uno dei fatti politicamente più rilevanti degli ultimi degli ultimi decenni proprio per chi accade in argentina perché accade in america latina e perché accade in un mondo che sta prendendo invece la strada completamente opposta sì è interessante questa vicenda dell'inflazione ne approfitto solo per ricordare proprio qualche tempo fa proprio qualche giorno fa proprio un riferimento alle elezioni statunitensi il famoso tema del prezzo delle uova che durante l'era di trump era molto più basso di quello che invece è attualmente ecco la percezione dell'inflazione è un tema importantissimo che ha conseguenze politiche veramente grandi ecco questo è un tema ricordo c'è un paper interessantissimo di banca italia sulla percezione dell'inflazione per cui dopo qualche anno all'introduzione dell'euro si chiedeva alle persone quanto pagassero per andare al cinema e quindi nessuno ricordava diciamo che il prezzo era effettivamente 14 mila lire prima dell'ingresso dell'euro e quindi 7 euro che si pagavano assolutamente gli altri tutti dicevano 7 mila 8 mila lire quindi la famosa percezione dell'euro che ha raddoppiato diciamo i prezzi e questo secondo me è uno dei temi come dicevi tu per cui al di là proprio del fatto che da un punto di vista economico è importantissimo tenere a freno l'inflazione credo che può anche spiegare in parte proprio il fatto che le persone cominciano a vedere che i prezzi non salgono più come prima che non si risperano nel fare la spesa come tu sottolineavi forse questo aiuta nel ingoiare diciamo da questo punto di vista la pillola l'altro tema è che diciamo forse ci serve per introdurre anche il secondo articolo a cui volevamo fare riferimento è però quello diciamo degli effetti delle azioni politiche cioè il tema è quanto tempo un tema dinamico hai detto bene ha dato la scansione dei tempi però tutti dicono se effettivamente non si innesca la crescita se non si innesca diciamo il recupero della del reddito e quindi della capacità di spendere quindi se le persone non stanno effettivamente meglio succederà che poi questo consenso ovviamente non riuscirà a tenere soprattutto per i motivi che dicevi trasferimenti tagliati c'è poco spazio ecco per fare ancora ulteriore interventi e il tema proprio degli effetti ritardati delle politiche quello che potrebbe mettere in difficoltà mi lei perché proprio sul financial times e in questi giorni è uscito un articolo nel quale si individuano una serie di contenziosi in cui l'argentina è coinvolta da oltre vent'anni che sono contenziosi che sono stati mossi nei confronti dell'argentina per tutta una serie di politiche che i governi precedenti a quello di mi lei hanno fatto si va dalla nazionalizzazione delle areoline in cui sono stati pagati per pochissimi spiccioli le azioni a un gruppo di azionisti al tema diciamo del cambio del calco del gdp per pagare meno interessi e sui bond e a tutta una serie diciamo di elementi che propri governi avevano fatto e che avevano reso l'argentina paria di fatto da un punto di vista finanziario di fronte al ritorno e di mi lei quindi all'arrivo di mi lei a proprio mi lei ha promesso che l'argentina sarebbe stato un partner affidabile che avrebbe cominciato a rispettare e quindi anche intervenire in questi contenziosi in maniera diciamo anche da mettere fine e un punto a questi contenziosi si pone il problema del costo perché parliamo di miliardi di dollari che potrebbero ovviamente arrivare a essere pagati o comunque essere impegnati e quindi a distruggere quel tema del surplus a cui facciamo riferimento e addirittura il governo sta valutando se resistere comunque dentro i contenziosi pur sapendo che non ci siano grandi speranze proprio per provare a prendere tempo allora carlo il tema è anche questo cioè il tema delle decisioni politiche degli effetti molto spesso noi ci troviamo a commentare ciò che succede vale anche per il governo italiano abbiamo parlato proprio l'altro giorno facili riferimento tu al tema della finanziaria fatta da questo governo forse la prima hai detto in cui il governo riesce pur con difficoltà il governo italiano a mettere un attimo un quadro di quello che vorrebbe fare perché perché il superbonus che è una roba che non ha fatto questo governo anzi che la forza principale di maggioranza questo governo addirittura non aveva neanche votato le altre due si bebe bebe oddio oddio qua ti fermo ti interrompo perché era perché ora c'è male di governo aveva accusato il il governo precedente di non fare abbastanza sul superbonus poi dopo vinto le elezioni diciamo hanno cambiato posizione questa precisazione ha anche un senso è che ormai sei più grande esperto diciamo di superbonus vivente ma lo scopriamo presto il motivo però diciamo al di là di questo certamente il tema del superbonus comunque non ha interessato direttamente questo governo ma di fatto ne ha condizionato in maniera pesante e tutta l'azione e continua a condizionarne l'azione questo non è un altro tema interessante rispetto ai meriti ai demeriti dei governi cioè si fanno delle azioni che poi hanno addirittura in questo caso stanno avendo effetti a distanza di vent'anni ecco quindi questo è davvero complicato da gestire sì e questo ti dimostra dimostra tra l'altro appunto che non solo è importante governare bene ma è anche importante governare perché si governa male poi si producono effetti negativi sulla crescita ma è anche importante governare nel rispetto dell'ordine internazionale in fondo queste liability che il argentino rischia di dover sostenere derivano dal fatto che i governi peronisti degli anni degli anni passati hanno messo in atto nazionalizzazioni abusi espropri senza giusto indennizio e quant'altro ignorando bellamente il diritto internazionale e costringendo le imprese che ne erano danneggiate a fare ricorso nei vari fori internazionali o presso o ad attivare arbitrati internazionali e tutto questo rischia di trasformarsi in una bella grana per lei perché ovviamente e ovviamente queste queste cifre che si contano nell'ordine di queste potenziali risarcimento che si contano nell'ordine dei miliardi di dollari nel mezzo di un percorso di risanamento della spesa pubblica dove vengono tagliati gli stipendi dei dipendenti pubblici e trasferimenti agli enti locali eccetera chiaramente dal punto di vista dell'immagine di miliare vedere che potrebbe essere costretto a risarcire imprese multinazionali certamente non gli farebbe bene hai voglia raccontare che questo dipende da scelte altrui tant'è che per paradosso il governo di miliare sta cercando e ahimè ai lui ai loro di difendere nelle sedi appropriate ovviamente eh la 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 correttezza delle scelte che che lui stesso non condivideva l'ha detto mille volte dei precedenti governi peronisti però questo è importante quello che dicevi perché eh le 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 colpe dei non non dei padri ma dei predecessori in questi casi ricadono pienamente su chi arriva dopo e se chi arriva dopo si trova già di per sé a dover per eh aggiustare i guai fatti da dai suddetti predecessori questo rende eh la situazione ancora più insostenibile e crea una situazione dove in qualche maniera la responsabilità agli occhi degli elettori potrebbe paradossalmente essere attribuita a a milei e non eh a a chi è venuto prima di lui sì questo veramente del legame eh ma capita quando qualcuno capita anche nei meriti no quando qualcuno poi apre una strada di un cantiere che è stato magari vent'anni fermo e c'è il politico che va lì in quel momento e magari quello che aveva iniziato era quello di prima però questa è davvero incredibile che poi eh sia complicato riuscire a fare percepire eh questi questi temi della causa e dell'effetto così ritardato e così lontano a volte non ce ne accorgiamo nemmeno o a volte non ce lo ricordiamo neanche ecco di quello che è successo tanto tanto tempo prima tra parentesi a proposito della dello sfondo che ho e della e della e della questione internazionale si segnala che addirittura milei avrebbero dato il consenso ai primi voli si sarebbero tornati i voli tra l'argentina e le isole Falkland per gli inglesi Malvinas per gli argentini quindi che però mi lei scatenando grandi polemiche ha chiamato Falkland ah questo io l'avevo perso diciamo questo l'avevo perso e diciamo è perché proprio lui ha detto il momento diciamo di cominciare a ristabilire le relazioni sensate proprio col mondo ecco quindi il tema delle relazioni internazionali e della credibilità di un paese è un tema importante che giustamente tutto ecco e e tra l'altro ci avviciniamo verso la conclusione di questa chiacchierata anche mesta 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 la nostra vita senza la professoressa non ha il minimo senso ci avviciniamo citando un articolo che però di del nostro amico Luciano Capone sul foglio eh che però ha bisogno di una premessa perché quando eh ci starete ascoltando eh le elezioni americane si saranno già svolte nel momento in cui oddio si hanno svolte ma non sapremo l'esito è probabile forse sapremo avremo avremo l'idea dell'esito nel momento in cui registriamo invece gli americani stanno votando quindi non abbiamo assolutamente la minima idea di chi abbia vinto o di chi vincerà eh scegliete voi la 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 coniugazione però è uscito sul foglio un bell'articolo di Luciano Capone che confrontava due personaggi che nella politica internazionale nello schematismo della politica internazionale vengono spesso affiancati cioè Milei e e Donald Trump anzi come dicono come dite voi che avete studiato Trump Trump e e quello che dice eh Capone che se guardiamo la politica economica dei due Milei è antiprotezionista mentre Trump vuole vuole i dazi eh Milei crede nel pareggio di bilancio mentre Trump vuole eh la spesa in deficit e il paradosso è che eh Milei dei due Reganiano e Trump dei due Peronista quindi abbiamo una conduzione eh diciamo americana dell'Argentina e il rischio di eh un'argentinizzazione degli Stati Uniti apro e chiudo parentesi questo rischio non è che ci sia soltanto con Trump perché abbiamo visto come ha governato eh Joe Biden e come verosimente governerà eh Kamala Harris ma diciamo la cosa interessante perché Trump e Milei vengono spesso eh associati vengono associati perché hanno in comune alcune cose per esempio il rifiuto della cosiddetta cultura woke e quant'altro ma in termini di politica economica sono quanto mai istanti ma anche credo che Trump sia associabile con oggettivamente con pochissime diciamo altre figure nel senso che è davvero complessa proprio un editoriale dell'Economist eh di questi giorni faceva presente come se si analizza il primo mandato di Trump in fondo si trovano anche cose molto positive che sono state fatte eh ma che sembrano fatti quasi per caso cioè senza una strategia in qualche modo eh per accidente forse questa è la dimostrazione che il miglior governo è quello che non ha una strategia o che non pensa di averla e che va avanti cercando diciamo di turare le falle di quello che succede però eh sicuramente dal punto di vista politica economica eh gli Stati Uniti eh comunque finisca non promettono benissimo nel senso che il tema diciamo dell'intervento dello Stato è ormai eh veramente conclamato Biden non ha fatto altro in alcuni casi che proseguire sulle politiche già protezionistiche e già inflazionistiche che Trump aveva cominciato e da questo punto di vista il tema diciamo di quello che succederà dopo con una situazione fiscale già abbastanza eh complicata per il crescere del debito sarà un tema interessante diciamo dei prossimi dei prossimi anni a prescindere da quello che sarà il presidente o quella che sarà la presidente degli Stati Uniti americani sì quindi diciamo chiudiamo con con una nota di preoccupazione per gli Stati Uniti ma con una nota di speranza per l'Argentina sì assolutamente e poi il fatto che noi non volevamo proprio parlare degli Stati Uniti perché non avremmo potuto visto che le elezioni non c'erano state ci siamo avvicinati diciamo il più possibile abbiamo scelto l'Argentina per cercare di avvicinarci il più possibile a quello che sta succedendo negli negli Stati Uniti e sicuramente noi guardiamo con grande favore all'Argentina e speriamo che l'esperimento riesca ce lo vogliamo ovviamente per le Argentine perché poi noi che siamo ovviamente ideologicamente molto schierati saremmo felici di provare che anche praticamente siamo stati bravi eh beh insomma vediamo e teniamo le le dita ingrociate però per ora diciamo siamo stati credo cauti nel tempo nel trattare questa questa vicenda cominciamo a farlo adesso che abbiamo dodici mesi di di esperienza concreta in cui nel complesso le cose sono andate più bene che male ecco per il consenso del presidente il consenso esatto e non c'è stato finora questo disastro che qualcuno aveva paventato non più tardi tre quattro mesi fa in cui dicevano ecco il tema poi c'è sempre il tema della politica il tema dei poteri effettivi molte delle cose che voleva fare sono state anche diciamo fermate dal Parlamento ma il tema della politica il tema di che si può fare ciò che ti consentono di fare quindi da questo punto di vista diciamo poi diceva Reagan che il miglior modo per fare bene in politica è non prendersi mai meriti di quello che si è fatto quindi diciamo questo potrebbe essere per mille diciamo un buon viatico beh diciamo al momento glielo riconosciamo noi cose che qui lui sarà fiero anche se secondo me pure lui dirà sì però questo patentino rilasciato da voi due senza la firma senza esatto esatto che salutiamo che salutiamo aspettosamente va bene allora ci lasciamo ci lasciamo e ci vedremo con un nuovo presidente ci vedremo con un nuovo presidente degli stati con una nuova presidente dico degli stati uniti perché in italia presidente c'è 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 sia del consiglio della repubblica non noi non cambiamo siamo qui attendiamo e sottovoce però suggeriamo a chi ci segue di leggere l'editoriale della setti questa settimana dell'istituto bruno leoni che rispettosamente muove però un appunto al presidente della repubblica ecco ma noi sempre rispettosamente però con la testa sotto i suoi piedi no 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 io solo per affinità territoriale va bene e qui ce ne stiamo sì e qui stiamo un saluto a tutti alla prossima ciao a tutti ciao ciao